Guarda, ah scusate, non avevo fatto partire, adesso sta registrando, fai finta, stiamo tagliandola di nuovo, dobbiamo rifare tutto da capo, è perché non l'avevo schiacciato Quindi devi dire, Francesca, ribarti da lì, faccia, sei sempre un colore che abbastà, no, ma è vero, pure Lila se ne ha accorto, guarda che questo non è aziendale, stai tagliando la tua zitta, ha tagliato il copertore, sorridi, 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 dai lo metto su YouTube, no, assi, ma non lo fai, minimo, 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 mi vuole come lo chiami, così Dimmelo, ditemi un nome, lo metto subito Come lo pia? Mangiarlo a ruota Ma è uguale quello che c'è dentro, sia avanti che... Tranne il pezzo qua su, che l'ho messo dopo Ciao